bella raga oggi è un nuovo episodio di pvp e oggi vi volevo illustrare questa nuova parte nuova cantoria vecchia ma vabbè parte del server audio gaming pvp tutto che pvp 2 pvp 2 da cosa è dato per saltare così dovete correre quando la barra dell'esperienza piena potete fare super salto ecco calcando due volte tipo come per volare e se calcate due volte lo spazio mentre correte volate super iper velocissimo ecco questo è il pvp 2 armi arco 32 frecce armatura in pelle spada in ferro più tre cose di pane e il kit gratis poi ci sono gli altri kit che costano un casino quindi fap è questa cos'è è la mappa vecchia di pvp di di minecraft pvp mi piace soprattutto che diano l'arco gratis perché poi io sono tipo sniper però fap e quindi tu mi hai sbagliato ecco sì e quindi niente oggi vi volevo far vedere vedere questa parte e basta naturalmente io preferisco l'altro quindi si entriamo nel coso deathmatch vaniglia che in teoria è vaniglia ma vabbè io può e dico vaniglia ok e invece è una cosa di di avventura dove non fate un cavolo è solo minecraft normale sì siamo ai show ragazzi xdxd per vedere se ci sono teamers fapers ah super stefano è un teamer ma è un fapere quindi è affek up è affek up o spade overpaw a sharpness 50 cose 80 e quindi facciamo super sniper c'è su che figo lol eh 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 ah ce è rimasto di merda questo eh 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 ahia mannaggio a te prendi notti sei tu say un faper morì ma ecco quello tipo ci è rimasto malissimo infatti mi dispiace per te ma era tipo peggio tra l'altro non potevo resiste capisci neanche tu perchè non funziona il mio mouse ah io no sono fa per mangiare quindi adesso tipo li scoppio troppo facendo così lo so una spada con sharpness 2 che non mi serve un cavolo però naturalmente sono un genio tutte le spade potenti su nel mio plot controllo un po' per vedere se sono le mie spade incantate se no ho perso una fair aspect 1 una sharpness 3 sono un genio si si ok adesso andiamo a killare il fa per qua che non ho nemmeno idea di dove si era tipo a fappare il coso degli incantesimi dell'xp tanto è molto sveglio si vede la mia roba se su ca che genio un genio del male è un genio del male non è una verità lo faccio proprio della serie rosica rosica cretino e poi io sono io sono un dono sono pro e quindi mi dispiace che ci sia poca gente perchè è figo quando facciamo eh 50.000 contro eh 7-8-10.000 si è troppo estremamente figo poi di solito quando sono pieno di roba la butto dei fa perso qui perchè sono cretini e quindi san fk soprattutto non si nascondono no la mia testa la voglio voglio la mia testa dammela mi hanno decapitato di brutto ecco questa la metto nel mio plot ora perchè io può tipo allora faccio pro action super super matteo pro e poi e poi vado a mettere la mia testa nella cosa si vado a mettere la mia testa nel la ok si butto quello giù dal ponte che non è un ponte ma un parkour quindi vado a mettere la mia testa lì e mi metto eh ai no si mi metto ai che fa per che fa per sono sette ordi ci sono mannaggia a te le enderpearl adesso tanto non mi freghi c'è un altro scemo lì tipo adesso lo chilo male aia ma quanto è che vuole andare per là ma sei un cretino ah che nabbo lui si che sveglio ma questo è ancora più sveglio mamma mia ok sono non ci sono parole per descrivere la loro intelligenza purtroppo allora questa è la fair aspect e questa è la cosa la sharpness eh adesso ti faccio tipo troppo male oh cavolo due contro uno non vale però eh tanto tipo li killerò uno a uno però questa non è idea nemmeno che enchant abbia proprio però sono abbastanza svegli quindi credo che riuscirò a killarli male ti devo dare fuoco scappa fuga 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 così perde tempo ok scappiamo perché sono messo tipo troppo cavolo barbaccia timmoni che in teoria non sono tim però fabba non mi sembra si fapping di coppia ah ma allora sei sveglio eh sei un genio cioè fatelo dire dovrei stavo per dire dovrei riuscire a killarli in modo molto intelligente però preferire prima c'è anche Randy Leifland aia no qua mi suicido tipo oh cavolo no aiutami cheeto fly no super stefan è all'effetto aiuto aiuto ancora no no mannaggia mi ha ucciso ho ucciso fly vabbè tanto ne faccio ogni due secondi di quelle cose di quelle armor block di ok one shot gg where do you want team ah ma sei qui allora mannaggia teamers trattino donors eh trattino donors alto trattino ecco non è uno team eh che ne dici sono sicuro che questi sono super fa per eh ma due contro uno non ho già voglio adesso sono uno c'è cosa in diamante se no non è una buona idea non so sono un genio grazie grazie voglio il mio arco però volevo fare sniper super mi piace fare sniper super che cavolo è che cavolo sei tu aiuto lag 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 ai 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 aigeois mi giving up de Mark scorcia succhia succhia ecco ecco adesso parliamo di cose più serie come voglio un cavolo di ecco così ok eeeh notte ah che cavolo è che cavolo è è uno sotto terra aiuto c'è uno sotto terra molto pericoloso ah l'ho killato io ahia ecco perché se non fa faccio con il niente voglio fare lo sniper tanto 5 dollari non ci vogliono due secondi per farlo 5 dollari quindi xd quindi tanto è 869 milioni di cose di cose sì problemo 63 frecce oh cavolo oddio sono anche qui ninja si sono trasferiti non gli piace più bridge island ma preferisco ah ma tu è anche l'arco sono io ti chiamo rosita non ha capito non ha capito recupero frecce recupero frecce nella battaglia attenzione boom 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 non l'ho preso mannaggia eh ma lag e dai devo caricarle le frecce cavolo onnaggia si no quello mi fa tanta bua voglio perdere il mio arco perchè io sono sniper e io ho l'arco e dai sono ho troppa mira tipo è la spada incontata quello solo che sveglia non ha l'armatura wow grazie thank you very much si hello minor sorby sharpness 3 sharpness 1 smite 1 eh mi sa che me ne va dallo spawn proprio così buona idea yes semi ora qual è la sharpness ok 2 sharpness 3 mi servivano un paio di sharpness 3 proprio bello si fare il bulletto con i fappers così vai li rubi le spade e loro ci rimangono male fanno tipo bambini eee si mettono a piangere tipo sempre certo così se no che divertimento la sharpness 1 la prendo perchè tanto eh no tanto io lo sto di fecce perchè tanto unendo l'altra sharpness 3 mi esce un'altra sharpness 3 perchè ce ne vogliono tipo un bel po' per fare una sharpness 4 e come protection non è che fai non è che metti due protection 2 due libri protection 2 e fai protection 5 2 più 2 uguale 5 problem questo ha rotto le scatole questo lo voglio ti voglio male sai ah è la spada potente quella molto potente no no mi ha sciottato mamma è una questione di onore adesso solo io sono non so se hai capito bene chi è questo è un fabber muori male la spada fire aspect questo fire fapping aiuto aiuto che dolore ammaggio dai o zio staff ottimo ottimo adesso spero che sia morto quello ma sono cretini credono di riuscire a killarlo ah non vale così sei un fumico ma non mi sto nemmeno inseguendo coin salutiamo wow ho vinto gg ho pochi cuori mi nascono dietro di questo oddio aiutami aiuti lo sta picchiando lo sta picchiando o zio ah speravo che fosse la spada figa non so adesso quanto tempo sono direi che puoi andare per oggi quindi ciao xdxd bye bye bye